Ciao a tutti ragazzi, sono qui in questo video, lo so è da un po' che non ci vediamo con un video un poco più lungo Purtroppo sono stato molto preso da fatti non molto positivi che magari vi racconterò in live Forse si, forse lo vediamo un po' E oggi voglio discutere con voi di una cosa che molta gente ha detto aspetta ma questa è una specie di sneak peek Una specie di cosa del genere per il prossimo DLC Perché tempo fa la Frontier postò questa immagine che adesso vedete qui su schermo eccola Con il bellissimo Seradattilus e dietro c'è anche questa cosa che voglio parlarvene dopo perché voglio farvi notare una cosa particolare E la gente ha pensato aspetta ma se hanno mostrato un rettile volante E il post appunto parlava proprio di loro che chiedeva qual è il vostro rettile volante preferito Qual è il rettile volante mettete sempre nei vostri barchi La gente pensava ma secondo noi sarà un DLC sui rettili volanti come hanno fatto per i rettili marini Io vi dico la mia, secondo me non sarà così E vi dico anche perché Perché se andate a notare qui sta scritto la data di questa foto E nel copyright praticamente vediamo scritto che è il 2021 Ed è un poco strano perché è appunto una foto vecchia allora Perché mettere una foto vecchia per parlare di un DLC? Potrebbero comunque farlo perché comunque insomma la foto potrebbe essere collegata a rettili volanti Ma secondo me il prossimo DLC non sarà su di loro Siccome la Frontier sta facendo una cosa molto particolare Ovvero di mettere tutti gli animali mancanti di Camp Cretaceous L'altra volta con i rettili marini hanno messo in Otosauro Nell'ultimo DLC che abbiamo avuto hanno messo il Tarbo Quindi magari o fanno un DLC sui ibridi anche se pure quello lo vedo strano Oppure sarebbe figo il DLC sui mammiferi preistorici Anche quello potrebbe essere molto difficile da realizzare Diciamo ne ho parlato in un altro video Ma comunque questa foto secondo me non è collegata a un DLC Però c'è una cosa molto particolare che ho notato grazie a un post su Reddit Che questa struttura qui, la galleria panoramica, la torre panoramica insomma È diversa da quella che possiamo mettere noi in gioco In che senso? Quella che noi possiamo mettere in gioco ha una struttura centrale qui Questa specie di parte, vedete? Ce l'ha di legno Invece quella che vediamo nella foto ce l'ha di cemento E questa struttura in realtà è presente attualmente in game Ma solo nella modalità teoria del caos di Jurassic Park 3 Praticamente questa è la struttura dell'era Jurassic World È solo disponibile in quella mappa Cosa molto particolare e molto strana Ma non è l'unica struttura disponibile in quella mappa Che è praticamente sbloccabile solo lì Utilizzabile solo lì Perché appunto il punto di arrivo Appunto il punto di arrivo è un poco strano Però insomma Il punto di arrivo di questa mappa Non possiamo usarlo da nessun'altra parte Se non in questa teoria del caos Cosa molto brutta perché in realtà L'edificio è molto particolare perché è piccolino Tascabile diciamo Quindi lo possiamo mettere in molte parti del parco Magari che avete uno spazio piccolino Ma volete comunque fare una zona magari per i vostri lavoratori Quindi secondo me questa struttura sarebbe molto carina da aggiungere Anche questo non penso che indichi che il contenuto del prossimo DLC O del prossimo aggiornamento più che altro Potrebbe includere queste strutture Tra molte parentesi mancanti Che sono esclusive di questa teoria del caos Sarebbe carino perché comunque ripeto Il punto di arrivo della teoria del caos di Masrani Jurassic Park 3 mi piace parecchio Non è niente di che però non lo so mi piace Questo stile mi piace assai E niente invece voi cosa ne pensate Questa immagine di questo Seradactylus potrebbe davvero essere un hit Come si dice in inglese Per il prossimo DLC Oppure è solo la Frontier che cerca di stare a contatto con la gente Chiedendo quale rettile volante mettete nei vostri parchi A proposito ve lo chiedo anche io Quale rettile volante usate sempre nei vostri parchi? Io vi dico il mio penso che quello che uso di più potrebbe essere Il Ketzal assolutamente Ketzal Trolloptera del 2001 con la nuova variante è molto molto bello E un altro che mi piace assai è pure Gelopterus che è molto carino e simpatico Anche se non può bere ancora Vabbè dettagli Mentre ragazzi come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto E di entrare nel canale Discord Perché lì potete parlare con me liberamente di qualsiasi cosa E ci vediamo ad un prossimo video Magari con notizie belle, focuse e grosse notizie sul nuovo DLC Ciao gente Ciao